Torna al Parco Ex Caserma di Cocco Indie Rock Festival, 19esima edizione, tre giorni di grandi eventi. Ritorniamo dopo due anni di pandemia, felici di riempire questo parco di musica da tutto il mondo. Partiamo il 24 giugno, venerdì, domani, e andiamo avanti fino a domenica 26 giugno. Le serate sono dedicate, come al solito, alla contaminazione tra le arti, tra i generi musicali, cercando di sorpassare e superare confini sia nazionali che stilistici. Siamo felici di avere di nuovo centinaia di volontari che ci aiutano, una città vicina e costantemente attenta a quello che combineremo in questi giorni. Tanta musica comunque, tanta musica da tutto il mondo prevalentemente, e poi una comunità che si esprime al meglio. 19 edizioni, sono tante per un appuntamento che ormai è diventato un classico dell'estate pescaresa. Ci piace l'idea di accendere e di iniziare l'estate di Pescara come primo grande evento della stagione estiva. Ovviamente negli anni abbiamo imparato a capire come e cosa fare, perché sia il nostro pubblico che la città potesse avere un evento degno di una grande capitale europea.